Il camion carico di merce contraffatta non è sfuggito ai servizi di vigilanza doganale potenziate all'interno del porto di Brindisi. L'operazione è avvenuta il 20 febbraio scorso. L'articolato, con il suo carico composto da 620 colli contenenti trolley da viaggio, era diretto in Spagna. Al controllo però il carico è parso disposto come una scatola cinese. Lungo tutto il perimetro dell'articolato infatti vi erano le scatole con la scritta Made in Cina contenente trolley. Al centro del carico poi sono comparse le borse. Ai controlli sono venuti fuori sacchi di iuta numerati e di cui veniva specificato il peso contenente i loghi dei marchi più prestigiosi e ambiti come Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Chanel, Guess sono per citarne alcuni. Ai finanzieri e al personale dell'ufficio dogane non è rimasto che controllare ogni scatola per numerare i prodotti. Un lavoro non facile che si è concluso nella giornata di ieri. Per tutta la merce sequestrata, come si diceva, è stato stimato un valore di circa 2 milioni di euro. I loghi contraffatti sequestrati rappresentano la novità nell'operazione di questo genere perché dà all'intero controllo un'importanza di rilevanza internazionale a tutto il sequestro. Aver trovato i loghi fa supporre che vi siano punti di contraffazione sparsi per l'Europa e nello specifico in Spagna dove l'auto articolato era diretto. Il conducente del mezzo è stato denunciato all'autorità giudiziaria.